L'autrice di un racconto si trasforma nella regista del film ad esso ispirato. Lili Sun Times è la pellicola firmata dalla francese Fabienne Bertot e racconta la vita e il carattere opposti di due sorelle. Lili, interpretata dall'attrice transalpina Ludivine Sagné, è una donna poco convenzionale e sessualmente disinibita che ama vivere alla giornata. Mentre sua sorella Clara, interpretata da Diane Kruger, lavora presso lo studio legale del marito, ha una vita regolare e desidera avere dei figli. Per me l'evoluzione di Clara in questo film è molto interessante. Questa donna non è apparentemente infelice, ma sono sicura invece che lo sia. Penso che attraverso la sorella e la morte della madre abbia iniziato a chiedersi, in questa vita sono di passaggio, che cosa desidero veramente. Penso che questo sia interessante perché non è mai troppo tardi per iniziare a vivere i propri sogni. La morte della madre costringe Clara a raggiungere la sorella in campagna per prendersi cura di lei, ma lì la donna prende consapevolezza di una sorta di assurdità della sua vita normale. Nella pellicola la regista usa i profili delle due sorelle per affrontare il tema del rapporto tra normalità e follia. Se ne avessi il coraggio sarei come Lily, perché mi piace la gente non convenzionale e libera nella testa. Ma purtroppo sono un'attrice, sono mamma di due figli e ho delle responsabilità. Non ho scelta, ma cerco di gestire la mia vita con libertà di pensiero. Credo sia importante. Dopo la Francia il film è arrivato nelle sale in Germania e in Grecia.